Come ottenere il miglior tasso di interesse per il finanziamento della tua auto? Le valutazioni da fare sono diverse. È importante valutare i vari aspetti del finanziamento, il tasso applicato, ma anche il rimborso che la concessionaria, come ormai spesso succede, propone al cliente se applica il finanziamento alla propria vettura. Se vuoi valutare un finanziamento con attenzione, devi controllare il TAN, cioè il tasso di interesse applicato, ma pure il TAEG, che è l'insieme dei costi che vanno ad aggiungersi all'importo che hai finanziato. Se hai dubbi sulla tenuta nel tempo della valutazione della tua vettura, puoi scegliere un tipo di finanziamento con valore minimo di riacquisto. Quindi già oggi ti diciamo, fra 3-4 anni, alla conclusione del finanziamento, quanto varrà la tua vettura, se ovviamente risponderà ai criteri impostati all'inizio. Come vedi, gli aspetti per la scelta del finanziamento ideale sono molteplici e a volte anche abbastanza complessi. Quindi se vuoi passare, li ragioniamo insieme, ti aiutiamo a scegliere il tipo di finanziamento oppure la scelta di non fare un finanziamento in base alle tue esigenze e alle tue possibilità. Passa da Baccanelli per trovare insieme la soluzione giusta per te.